Grazie, buonasera a tutti. È per me un onore, come Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, porgere i saluti introduttivi di questa sessione pomeridiana. Nel porgervi i saluti voglio condividere con voi un ospicio. Che le parole di tanti autorevolissimi addetti ai lavori vengano ascoltate dal legislatore. In quattro anni di esperienza parlamentare ho capito che deve cambiare l'approccio che ha il legislatore alla tematica della giustizia. Cercherò di offrire qualche spunto di riflessione, concentrandomi soprattutto sulla percezione che oggi hanno i cittadini della giustizia. Il primo punto che deve essere chiaro è che il legislatore deve essere chiaro e determinato. Sembra scontato, ma in realtà troppe volte nel Parlamento una legge viene approvata dopo che ci sono stati compromessi politici dell'ultimo minuto, che sono compromessi al ribasso. E sono compromessi che poi si concretizzano all'interno della legge in avverbi, formule illogiche, giri di parole, veri e propri cavilli per legge che hanno un unico effetto. Quello di avere alla fine una legge che spesso è scritta in un italiano pessimo e che comunque precipita nell'incertezza totale. Questo è devastante per il cittadino perché percepisce una giustizia che è anacquata e incerta. E nel diritto penale, a cui sarà dedicato prevalentemente il convegno in questa sessione pomeridiana, nel diritto penale la questione è ancora più delicata perché il cittadino percepisce un legislatore che scrive le leggi ma che poi in fondo in fondo ha paura di rispettarle o di farle rispettare. Faccio un esempio. In questa legislatura è stata approvata una legge molto importante, la legge sul falso in bilancio. Una legge che il giorno dopo la sua entrata in vigore ha subito fatto sorgere contrasti giurisprudenziali interpretativi. A distanza di poco più di un anno dall'emanazione della legge sul falso in bilancio sono dovute intervenire le sezioni unite della Corte di Cassazione per ricostruire il significato e permettetemi di dire anche per sanare il significato di una legge che era nata male. Noi dobbiamo ricordarci che un cittadino dovrebbe riconoscere la legge in un testo chiaro, lineare, comprensibile e accessibile a tutti. Invece oggi nella realtà cade tutto il contrario. Cioè un cittadino quando pensa alla legge ha in mente un testo lungo, complicato, inaccessibile, completamente incomprensibile ed è sempre più diffusa tra i cittadini la sensazione e la convinzione che all'interno di una legge ci sia sempre una via d'uscita, una zona d'ombra in cui è possibile in qualche modo aggirare la regola. Lo Stato deve tornare a scrivere buone leggi per rivendicare la propria autorevolezza istituzionale. Lo Stato non può continuare ad autodeclassarsi al rango di azzecca garbugli. Se c'è un progetto serio, ponderato, si porta avanti nel confronto con gli addetti ai lavori, poi nel confronto con le forze politiche, nel gioco meraviglioso della democrazia, che vuol dire quello che Calamandrei diceva, una sintesi efficace tra tesi e antitesi, non vuol dire compromesso politico a ribasso dell'ultimo minuto. Altro punto importante, il legislatore deve mettersi in testa che lavorare nel tema della giustizia vuol dire costruire un sistema di giustizia semplice e armonizzato. Troppe volte assistiamo ad interventi microsettoriali che portano alla moltiplicazione incontrollata non solo delle leggi, ma anche dei riti processuali. Noi dobbiamo avere, visto che si parla tanto di riforme, noi dobbiamo avere l'onestà intellettuale e istituzionale di dire che dopo una riforma il numero delle leggi deve diminuire, non deve aumentare. Questo è il cambiamento atteso dai cittadini. Ancora, il legislatore deve essere attento osservatore della realtà. E quale miglior modo per farlo, se non prestando attenzione a quello che accade all'interno dei palazzi di giustizia, all'interno dei tribunali, in quelle aule di tribunali in cui la giustizia smette di essere astratta e viene applicata alla realtà. Perché guardate che dai tribunali, dai palazzi di giustizia, arrivano input fondamentali che danno il senso di una società che cambia. Ed è un cambiamento che la politica non può ignorare. Pensate agli input che arrivano, per esempio, in diritto di famiglia. Ma a volte basta molto poco. Perché guardate che ogni volta che c'è un'istanza sociale che cade nel nulla e che viene ignorata dal legislatore, in quel momento il legislatore sta perdendo credibilità. Dicevo, basta molto poco a volte. Quest'anno bastava andare ad ascoltare, ascoltare seriamente, una delle tante inaugurazioni dell'anno giudiziario. Si constata che è un'emergenza, praticamente, o comunque un'esigenza diffusa in tutte le corti d'appello quella di una legge che cambi la prescrizione, che stabilisca che ci sia la sospensione dei termini di prescrizione al momento del rinvio a giudizio o almeno al momento della sentenza di primo grado. Anche questa è un'istanza che cadrà nel nulla e lo Stato perderà credibilità. E voglio farvi un esempio che è tragico. Marco Piagentini è un cittadino che nella strage ferroviaria di Viareggio ha perso una moglie e due bambini, due figli, uno di due e uno di quattro anni. Ed è un cittadino che da qualche anno, ogni settimana, per almeno due volte a settimana, va in tribunale per aspettare che il processo vada avanti e per aspettare una risposta di giustizia da parte dello Stato. Ora, io mi chiedo e vi chiedo, ma secondo voi che credibilità ha uno Stato che a Marco Piagentini dice che i primi due reati di quella strage stanno cadendo in prescrizione se non sono già caduti in prescrizione? Lo Stato di questi tempi non può permettersi di perdere credibilità agli occhi dei cittadini. E ancora, stamattina è stato un problema che è emerso più volte. Il rispetto che deve avere il legislatore per la separazione e l'autonomia dei poteri. Se esiste, faccio un esempio su tutti, se esistono degli organi di autogoverno della magistratura che dovrebbero garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, quando il Parlamento elegge i membri laici per andare lì agli organi di autogoverno dovrebbe sentirsi in dovere di individuare persone che hanno un alto profilo, persone che hanno un curriculum spendibile. Non possiamo più assistere al fatto che ogni volta che c'è l'elezione di membri laici si assiste all'invio di militanti politici che sostanzialmente vanno negli organi di autogoverno della magistratura per controllare la magistratura. Concludo e auguro a tutti noi di non smettere mai di immedesimarci quando parliamo di giustizia e quando lavoriamo nella giustizia di immedesimarci non solo nel cittadino onesto che chiede di essere tutelato dallo Stato ma anche in un'ottica di prevenzione di immedesimarci nei panni del cittadino dubbioso di quello che una volta almeno nella sua vita si trova di fronte al bivio sul comportamento da tenere. ecco se noi ci immedesimiamo in quei panni concepiamo una legge che dirà a quel cittadino che non deve avere tentennamenti e non deve avere incertezze perché in uno Stato di diritto essere onesto non solo è giusto ma conviene. grazie e buon lavoro a tutti.